ciao oggi nuovo planner with me con il tema ovviamente natale per questa volta ho deciso di utilizzare esclusivamente materiale preso dalla lidl vediamo cosa ne esce fuori grazie per la visione Grazie a tutti. Spero che questa realizzazione ti sia piaciuta, se ti va lasciami un commento sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti.